Dunque, oggi è il primo giorno che c'è l'obbligo del Green Pass quasi dappertutto. Anche questa volta mi sembra che i giornali media hanno dato un sacco di spazio a proteste per quelli che sono contrari al Green Pass, quando nella realtà dei fatti, mi sembra da quello che sto leggendo, da quello che vedo online, che queste proteste sono state proprio di gran lunga il minimo, cioè proprio meno di quanto si poteva aspettare. E' successo la stessa cosa, mi sembra, un mese fa, quando c'era stato l'obbligo per quanto riguarda il Green Pass anche nelle stazioni ferroviari, sembrava che questi dovessero fare la fine del mondo, alla fine a Milano e a Napoli erano pochissimi, 4-5 a Milano mi sembra, e due persone a Napoli. Per tutta questa gran cassa che gli hanno dato i mezzi di comunicazione, lo Stato ha mobilitato migliaia di poliziotti, carabinieri, agenti di antisommossa, eccetera, c'è un costo altissimo, un costo altissimo. Allora mi domando, vi domando, io ho fatto una riflessione e ve la propongo, ma è il caso di dare tutto questo spazio a persone che con tutto rispetto, la maggior parte di loro, non tutti ma la stragrande maggioranza, non legge un giornale, non legge solo un titolo, non si informa, se si informa si informa per le fesserie che ti arrivano su WhatsApp, senza sapere chi le manda, è solo girando, è il caso di fare così. Lo stesso circa un mese fa è morto un poliziotto perché ha contratto il Covid, anche questo era un Novak sconvinto, e il giorno dopo il decesso, questo poliziò di più di un mese, perché era l'inizio della campagna elettorale, più di un mese fa, e il fratello, che bisogna anche cercare di comprendere, visto che ha subito questo lutto, ha perso il fratello, ha mandato, è stato intervistato, il suo pensiero era che lo Stato, pubblicato su più di qualche giornale, che lo Stato aveva mandato il fratello a morire. Ma nessuno, allora io dico, ma scusami, tuo fratello, che quando ha voluto fare quel lavoro, sapeva benissimo dei rischi che andava incontro, ma scusami, e lo Stato, allora, gli infermieri, i medici, soprattutto tutti quelli che si sono, scusate il termine, ciucciati, il momento top della pandemia, a gennaio, febbraio, marzo del 2020, e tanti sono morti, non avevano neanche le protezioni, per esempio quelli lì, allora, per dire, cioè, quindi i giornali hanno dato lo spazio al fratello per dire quell'assurdità, che era un'assurdità enorme, che anche se, tra virgolette, può essere complessibile da un punto di vista, diciamo, emotivo, ma non era da mettere, non era da pubblicare, perché purtroppo qualche Minus Abens la interpreta in un'altra maniera, che è sbagliata, voglio dire. Allora, sinceramente, il sottoscritto, che non è nulla di che, abbiamo questo blog di informazione, lasciamo gli altri che ci diano le pagelle se è fatto bene, se è fatto male, se si può fare meglio, eccetera, eccetera, però francamente non ho voluto dare il minimo spazio a quelli là durante la campagna elettorale, grande nord, grande nord, 150 volte in tutto, né prima durante la campagna elettorale, mi avevano mandato un comunicato, ho pulito un comunicato, quando ho visto le fesserie, le stupidaggini, le edizie che scrivevano, chiuso, tolti, mai citati, mai nominati, né prima, né durante la campagna elettorale, né quando c'è stato lo scrutino, che abbiamo visto i risultati, ok, che sono stati proprio chiari, voglio dire, l'1,5%, una cosa del genere, cioè proprio, ecco. Allora, voglio dire, vale la pena dare questo spazio a queste persone quando sono un'assoluta minoranza, quando la stragrande maggioranza di italiani è andata a vaccinarsi, pensa a lavorare, pensa ai propri figli, pensa a fare il bene, pensa a operare nel migliore modo possibile, perché dare a quattro, non voglio dare giudizi, nomi, perché dopo qualcuno si arrabbia, mi dispiace, ci sono anche persone che sono anche da comprendere, perché sono spaventate per un sacco di fesseri che girano, però sinceramente io credo e vi invito a riflettere se è il caso di dare spazio a queste persone che in realtà sono, ripeto, un'assoluta minoranza e fanno molti più danni e qualcuno ha detto, è giusto protestare, queste cose qua, francamente, non mi sembra proprio assolutamente giusto che ci sia da protestare, perché francamente, protestare per cosa? Perché viene giù la neve, perché piove, protestiamo, governo ladro? Mi sembra che sia così, sinceramente.